Mezzi antineve in azione a Cervinia la presse strade bloccate per il rischio valanghe anche in altre zone del Piemonte e della Val d'Aosta, a Cuneo terrapieno frana e travolge un mezzo dell'Enel, illesi i tecnici che erano a bordo di Jacopo Ricca e Carlotta Rocci Piemonte e Valle d'Aosta ostaggio del maltempo, tra valanghe e smottamenti sono decine le zone delle due regioni in allerta. In questo momento sono isolate Cogne, Gressonei e Cervinia, in Val d'Aosta, mentre in Piemonte non si può raggiungere Macugnaga, nel Verbano, Rima San Giuseppe e Carcoforo in provincia di Vercelli e alcune frazioni in alta Val Susa, tra cui Rochmol è evacuata da alcuni giorni. Ha riaperto da poco invece la provinciale che collega Cesana con Sestrier, colpita la scorsa notte da una slavina che ha invaso un palazzo, e rimasta isolata per ore con 69 persone evacuate per precauzione, cui si aggiungono un altro centinaio nella zona del villaggio olimpico. Resta invece vietata la circolazione sulla statale della Val Chisone, nel tratto che da Pragelato raggiunge il colle, sull'altro versante, a Perosa Argentina, è stata evacuata in via cautelativa una persona che abita in una delle aree a rischio frane che incombono sul comune dall'alluvione del 2016. La protezione civile della regione Piemonte monitora la situazione dal centro di coordinamento e soccorso di Torino, ma in 19 sono stati aperti i COC, i centri locali per gestire le emergenze con quasi un centinaio di volontari al lavoro. Oltre a quelle già citate sono chiuse anche le strade 236 per Saiz e Dol, la 216 del Melesè, la 48 verso Piamprato e la provinciale 49 per Ribordone. A mezzogiorno ci sarà un briefing per fare il punto sulla situazione e decidere come intervenire. Nel Cuneese è stato chiuso al traffico il colle di tenda per una frana che ha colpito la Val Roja, il traffico è stato riaperto verso le 13.30. A Cune un terrapieno è franato alle basse di Stura, travolgendo un auto dell'Enel, i tecnici della ditta che erano a bordo non si sono fatti nulla, ma l'auto è stata danneggiata e la strada è stata chiusa al traffico. Le piogge intense hanno colpito soprattutto il Monregalese, Saviglianese e il Saluzzese, dove si registrano allagamenti di strade e cantine. A Savigliano i vigili del fuoco hanno dovuto chiudere un parcheggio completamente allagato, mentre a Cavaller Maggiore sulla provinciale per Bra è stato chiuso un sottopasso. Argomenti, isolati paesi neve slavine protagonisti, diritti d'autore riproduzione riservata 9 gennaio 2018